L'album di Oggie e i maledetti scarafaggi è finalmente arrivato! I terribili e dispettosi scarafaggi e il simpatico Oggie ti aspettano in edicola con un album grande e coloratissimo! In ogni bustina trovi 4 figurine più uno dei fantastici movie sticker animati a soli 50 centesimi! Oggie e i maledetti scarafaggi sticker collection da Jedis Edicola!